Ciao amici, benvenuti nella magica atmosfera del salottino viola, anzi del salottino rosa bohem. Allora, oggi realizziamo un oggetto molto semplice, molto divertente, utilizzando che cosa? Le spugne! Questo tipo di spugne, le classiche spugne da bagno o da cucina e o da cucina, tenute belle separate. Allora, possiamo fare dei progetti creativi facili, belli e divertenti? Seguitene uno perché secondo me questo è uno di quelli e intanto vi rimando al video, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale perché voi siete la linfa vitale di questo canale che sta prendendo quota e sta diventando qualcosa di bello grazie a voi. Preparatevi alla scissio, una grande scissione d'occidente, preparatevi al fatto che nascerà presto un altro canale, poi vediamo perché e per come. Intanto iscrivetevi ed azionate la campanella per ricevere le notifiche da questo canale. Vi ringrazio, vi saluto subito perché adesso ci mettiamo immediatamente al lavoro, quindi vi dico ora al prossimo video, ma segue breve e bellissimo tutorial. Ciao! 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 Ciao!